Buongiorno a tutti, oggi parleremo di Eurodollaro come spesso succede al sabato, settimana scorsa il video è stato di un altro tipo, quello dedicato al trader di questa intervista che ormai porto avanti da un po', ma questa settimana voglio ritornare ancora sull'Eurodollaro visto che ci sono stati dei movimenti molto molto interessanti, più che altro molto importanti, molto forti sul cambio e quindi andiamo a vedere che tipo di approccio operativo avere la prossima settimana, almeno ovviamente parlo sempre per quanto mi riguarda, quindi per il mio tipo di operatività insomma che farò. Prima di iniziare vi chiedo sempre di mettere un mi piace a questo video, di iscrivervi a questo canale se non siete iscritti e di attivare la campanella perché vi permette di essere sempre così connessi con noi e con tutte le live e video che inseriamo nel canale. Detto questo partiamo subito e direi di andare a tutto schermo, facciamo così, non dovrebbe disturbarvi la mia faccia a sinistra sotto, eccoci qua. Allora, questo è il grafico settimanale di Eurodollaro, ricordiamo che in questo caso noi siamo a praticamente il 20, siamo un po' sopra la metà mese, quindi è ancora da concludere il mese, non siamo ancora a fine mese, al momento diciamo che il grafico mensile ci mostra questo, quindi la chiusura al di sotto di quell'1,1650 di cui abbiamo parlato con il ritest poi è stata ancora di più forte nel movimento ribassista. Adesso siamo arrivati su un punto importante, però voglio farvi notare come da un punto di vista proprio di ampio respiro ci sono dei livelli di acquisto molto più bassi, che non vuol dire che arriveremo per forza lì, però volevo farvi capire come livelli di acquisto molto importanti arrivano proprio in area 1,09, addirittura 1,0950, ripeto questo non significa dobbiamo tornarci, però ci sono stati dei livelli di interesse molto importanti su quelle zone, quindi comunque teniamone conto, ecco. stiamo arrivando su, vedete, con un mensile su dei livelli molto molto tirato, nel senso tirato, nel senso bello carico, bello in trend, un po' come era successo qui, dai massimi era arrivato bello carico, poi qui c'era stata una leggera, nel 2018 c'era stata una leggera come dire, spinta verso l'alto, che sembrava anche, vedete, con questa pin bar potesse riportare i prezzi su, poi invece il mercato, guardate, con questa ha annullato un po' tutto e un po' alla volta siamo tornati giù, questo non significa che dobbiamo, ripeto, rivedere perfettamente quello che ha detto il passato, però volevo farvi notare quando ci sono queste tendenze forti di stare attenti, andarci contro, se ci si va contro è sempre in ottica di brevissimo termine e attraverso delle conferme operative, che poi vediamo. Quindi io da questo punto di vista vi sto dicendo che sto tenendo aperta anche una possibilità, diciamo, long per l'euro, ma attenzione, andiamo avanti. Allora, intanto questo è un mensile, un mensile che ci mostra appunto una grande debolezza, deve ancora concludersi. Il settimanale, questa settimana, guardate un po', è stato probabilmente una delle settimane più negative da un punto di vista di volatilità e di chiusura, quindi chiusura praticamente sui minimi, da un bel po' di tempo, perché probabilmente solo questa, quella di giugno, 14 giugno, è stata una settimana più negativa di questa, perché nemmeno questa, se noi andiamo a prendere i pip, quindi andiamo a prendere 127 punti, come, no, aspetta, high low, scusate, high low, quindi abbiamo 165 punti di movimento, 1 e meno 1,43, qui abbiamo sicuramente un high low di 214 punti, 1,90 e qui sicuramente maggiore, quindi abbiamo un high low di 300 punti, 300 pips, 2,53%. ecco, allora andiamo a vedere dove siamo arrivati, quindi siamo arrivati su area 1,12,90, 1,12,80, quindi sotto chiusura, sotto 1,13, che porta comunque ad avere una certa debolezza questo mercato e se ricordiamo bene quello che dicevamo anche tempo fa, questa FTV, che però devo ridisegnare, ecco qua, allora questa FTV, doppio massimo lower, eccolo qua, andiamola a configurare con i nostri valori, e arriviamo praticamente al T5, 261,8, 1,12,80 e chiudiamo praticamente lì, questo ovviamente è un dato importante perché confluisce con un livello importantissimo di prezzo, confluisce con un livello di prezzo che era stato il livello di rottura, se andiamo a prendere, aspettate che prendo la pennina, se andiamo a prendere gli anni 2020, l'anno 2020, marzo e poi giugno 2020, noteremo come quest'area, e soprattutto a giugno, c'era stato il movimento verso l'alto che poi è stato breccato, e quindi qui queste chiusure sono importantissime, che confluiscono proprio con il 12,80, 13, 1,12,81 e 13, che era un livello di interesse, è un livello di interesse, tant'è che questa settimana ci è arrivato in volatilità, molto violentemente, ma si è fermato proprio qui. Quindi, quindi questo è un dato importante, è vero che sotto abbiamo delle altre zone, perché sotto abbiamo, io ho questo livello di chiusura importante sia dal basso verso l'alto qui, e sia dall'alto verso il basso qui, quindi è un livello di interesse anche questo, questa è una falsa rottura, bam, e poi movimento. Quindi poi abbiamo praticamente l'1,11,50, tra l'altro vedo che confluisce anche con il T6, quindi perfetto, 1,11,50, all'incirca 1,11,40, 1,11,50, questa zona qui che poi diventa una successiva area. Però al momento, sinceramente, io credo che si possa tenere questo livello, al momento non abbiamo una price action su grafico settimanale, abbiamo una price action che ci conferma una grande volatilità, però questa grande volatilità al momento arriva adesso lontano dallo swing, non siamo qui, qua siamo già con una seconda barra di volatilità, con lontananza dell'ultimo swing a livello temporale di 4 settimane, quindi lo swing è stato fatto il 25 di ottobre, e poi adesso siamo al 15, cioè il 20 di novembre, quindi la settimana va da 15 al 20. E quindi in questo caso direi che il tipo di arrivo, anche in volatilità così, è un tipo di arrivo che dobbiamo comunque valutare. Se prendiamo un grafico giornaliero, vedete come nella giornata di mercoledì c'è stata questa pin bar sul livello, poi recuperata e poi buttata giù, però già questo ci sta indicando che qui si è fermato e nella giornata di venerdì, grandissima volatilità al ribasso che non mi aspettavo, sinceramente pensavo facesse una tenuta e si andasse verso l'area 1,1440, non subito ovviamente ma nelle prossime settimane, ma ci penso ancora. Quindi io sinceramente adesso qui sono dell'idea che per la prossima settimana a livello operativo avrò da lavorare in doppia direzione, non più only short sull'euro dollaro, perché adesso siamo su dei livelli importanti dove è vero che il settimanale non mi fa un trigger, ma il settimanale arriva in grande volatilità, quindi quando è così si possono anche lavorare i mercati, a meno per quanto mi riguarda, anche in ottica invertiva di breve ovviamente, qua stiamo parlando di, se si va long, di operazioni spot, in realtà anche short, cioè non andrei a tenere operazioni di troppo ampio respiro diciamo, ma sia short che long perché sappiamo poi intanto l'euro dollaro, però sicuramente il trend è ribassista in questo momento chiaramente, ma la grande volatilità dell'ultimo periodo ci permette diciamo di essere aperti e in questo caso ecco già questa zona può diventare una zona long, quindi nel caso in cui su quest'area, questa zona qui, quindi tra l'1 e 13,20 e l'1 e rompendo qui è recuperato, quindi diciamo 1,12 e 20, 1,12 e 30, si venissero a creare dei trigger long, quindi delle false rotture al ribasso recuperate per esempio, un qualcosa nel mio piano di trading, un doppio minimo IR, una pin bar, un self-take out, probabilmente queste sono quelle che possono venire a creare come trigger operativo che recupera ovviamente contestualizzando bene, che recupera questo 12,81 e 13 in close, io credo che attivarsi in ottica long con uno stop diciamo stretto, nel senso che uno stop direttamente sotto i minimi senza star troppo a prendere paracadute troppo ampi, con obiettivo 1,14 e 40, 1,14 e 50, possa diventare assolutamente una operatività interessante, quindi abbiamo detto da un punto di vista long potrebbe essere questo, oppure un subito in apertura, quindi tra l'1 e martedì subito una volatilità subito forte giù, arrivo verso l'1,11 e 50, 1,11 e 70 qui e forza rialzista, quindi se dovesse avvenire una cosa del genere a quel punto si può pensare un long ripeto sempre di brevissimo per prendere e cogliere un movimento di, in questo caso se dovessimo andare fino a qui si può anche rilavorare verso questa zona l'obiettivo, quindi 1,13 e 60, 1,13 e 40, quindi bene o male un obiettivo di 150 pips, che comunque stiamo parlando di un buon, un buon, una buona operazione, sempre sul fatto che comunque, sempre lavorando sul fatto che comunque lo stop in questo caso andrebbe messo comunque in linea di massima sotto i minimi o comunque tenendosi una lieve tolleranza, ma voglio dire, se dovessimo avere o un segnale qui di falsa rottura o un arrivo veloce in volatilità tra lunedì e martedì, pam pam pam, e qui ci recupera, beh, lunedì, martedì, mercoledì, insomma, vediamo un po' la settimana, anche questo a mio avviso va lavorato, va almeno approfondito. Ecco, quindi queste due sono le due ottiche, diciamo, le due modalità con ottica long, quindi queste false rotture o della zona attuale o della zona più sotto, 1,11 e 50, 1,11 e 70. Nell'ottica short invece, al momento, mi vede un po' in difficoltà, perché? Perché non ho un trigger, la volatilità è molto giù, si è appena venuto a creare uno swing, perché lo swing diventa questo, eccolo qui, e sotto abbiamo un livello, un altro livello importantissimo, perché stiamo in volatilità alta, in grande ribasso dei prezzi, e quindi è vero che bisogna andare a cercare anche operazioni nella tendenza, perché sicuramente sono quelle più, che possono dare in realtà un profitto anche più rapido e più indolore, però bisogna stare molto attenti, perché è vero che trend è il nostro amico, come si dice, ma bisogna anche saperlo scegliere e valutare, e soprattutto il timing, molto importante. Quindi in questo caso, in ottica short, che cosa fare? Allora, o nelle prossime giornate, ripeto, settimana prossima, dovesse iniziare a recuperare il prezzo con calma, e poi magari andare qui e farmi una falsa, oppure andare qui e farmi una falsa, quindi nel giro di, appunto, nei giorni della prossima settimana, settimana nel mercato è formata da cinque giorni, quindi o in questa zona, quindi area 1.13.70, o area 1.14.50, mi dà qualche spunto operativo, quindi rialza senza fare false rotture, rialza e mi fa qualche trigger qui, beh, allora da lì si potrebbe pensare a qualche short, sia da qui che da qui, per andare a prendersi questi 1.11.70, 1.11.50 nei prossimi giorni. Altrimenti direi che se il mercato dovesse iniziare a scivolare sotto, difficilmente mi vedrei a fare, cioè devo aspettare un'altra settimana, non andrei a fare nulla, quindi io per mettermi corto sull'euro-dollaro cercherei esclusivamente dei ritorni su, anche solamente fino ai massimi fatti l'altro giorno, ripeto, 13.70, non per forza 14.40, 14.50, ma vorrei rivedere uno spunto su, quindi una, la classica bugia, no, che può fare il mercato, che va a illudere, diciamo, un movimento rialzista e poi si riprende giù, quindi in questo caso direi che l'operatività su euro-dollaro è abbastanza chiara. Long, ripetiamo, se dovessero finirsi a creare dei trigger long sul daily, non andiamo sotto il daily, sul daily, o su questo livello o su questo livello, quindi delle false rotture, delle chiare, dei chiari trigger, oppure degli shorts si vengono a creare su questo livello o su questo livello. A quel punto, sull'euro-dollaro direi che potremmo pensare anche di valutare lo short. Quindi short e long, abbastanza chiaramente, o sui minimi o sui massimi, questi qui di breve, sono sicuramente, ecco, è l'operatività che credo sia più interessante. Intanto così poi vedremo come chiuderà il mese e valuteremo poi le cose che si verranno a creare, perché al momento tutto quanto può essere, anche nel breve può cambiare. Ricordiamo che un settimana del genere se dovessimo ritornare a fare appunto un minimo recuperato e poi un movimento rialzista è anche dentro, diciamo, a una tendenza che è short e che negli swing può portare, diciamo, tranquillamente a ritornare un po' long per poi essere rivenduto magari appunto sopra. Quindi io lo guarderei un po' così, vedete, anche guardando la big picture sul settimanale, la cosa migliore da fare, a mio avviso, è quella che vi ho appena proposto, cioè quella che vi ho appena esposto, è quella che io andrò a valutare nella prossima settimana. Non farò altre scelte se non queste su euro-dollaro, va bene? Bene, allora, anche per oggi è tutto. Rimettiamo, oh benissimo, anche per oggi è tutto. Io spero vi possa essere di supporto la mia view sull'euro-dollaro per la prossima settimana. Scrivete ovviamente dei commenti se avete qualche idea diversa o comunque volete scrivere qualcosa sotto riguardo questa tipologia di approccio per la prossima settimana sul cambio euro-dollaro. Vi ricordo sempre di lasciare un mi piace. Io a questo punto vi auguro una buona, un buon fine settimana, una buona sabato, una buona domenica. Noi ci vediamo lunedì con le classiche trading room qui sul canale e il mercoledì, ve lo ricordo sempre, con invece i mercoledì Mindset insieme ad Antonio. Grazie a tutti, un saluto e buon Trading Simple per la settimana.